Grazie Presidente, cercherò di essere breve. Con questa aula che comprendiamo che forse in questo preciso momento storico non era essenziale per quanto riguarda appunto il momento, ma era essenziale per quanto riguarda la politica di questa città, è comunque una voce che può portare Roma capitale sul territorio. E' vero, oggi portiamo degli ordini del giorno, ma sono questi i nostri atti, sono questi gli strumenti che noi abbiamo per far sì che le nostre volontà come rappresentanti dei cittadini possano essere ascoltate. Quello che possiamo dire è ovviamente che io ho 37 anni, sono giovane relativamente, io non ricordo mai di aver vissuto una situazione del genere a Roma. E' vero, la città è fruibile, è forse l'unico, se me lo permettete, l'unico lato positivo, però ci sono mille altri lati negativi, tra cui appunto tutto quello che è stato detto, quindi una città spettrale, le strutture ricettive che hanno il 90% in meno delle prenotazioni, e il commercio che è praticamente al collasso. E diciamo che proprio in questa occasione, in discussione generale, cerco di anche illustrare quali sono gli ordini del giorno che ho presentato insieme ai miei colleghi per quanto riguarda il settore commercio. E devo dire che il commercio, come giustamente è stato rilevato dal collega che mi ha preceduto, è forse il settore che sta soffrendo, tra quelli che sta soffrendo di più, perché ci sono famiglie che vivono di commercio e che hanno attività commerciali. Quindi non potendo contare su uno stipendio a fine mese, sono costretti a rivedere completamente la propria vita, le proprie abitudini, anche le loro finanze. Perché abbiamo capito ormai che da qualche settimana c'è un blocco totale, dovuto ovviamente dai decreti governativi e da questa situazione. Ma questo blocco e queste sospensioni di attività, di molte attività, fa sì che le imprese, le piccole, soprattutto le piccole imprese, sia con dipendenti che senza dipendenti, non abbiano più di che vivere, non abbiano più la regolarità dei pagamenti. Semmai negli ultimi anni c'è stata una regolarità nei pagamenti, visto che dal 2010 ormai il commercio, non solo a Roma ma in tutta Italia, e forse anche più in là, ha subito un forte colpo, un po' da tante cose, quindi dall'e-commerce, dall'online, dai grandi colossi. Quindi quello che io chiedo è, semplicemente ancora, come umile consigliere di Roma Capitale, è di alzare ancora di più l'asticella nei confronti di queste attività commerciali che ovviamente non ce la fanno. E mi rivolgo appunto alla sindaca, finché si faccia oltre tutte quelle cose che ha già varato, adottato insieme alla sua giunta, di aggiungere qualche punto in più. È vero che è molto ambizioso ciò che chiediamo, ma ci proviamo, perché secondo noi è giusto farlo. E se non è un'emergenza questa, quando possiamo farlo? Quando possiamo chiedere queste cose? E quindi vi dico che chiediamo ovviamente nei dispositivi dei nostri ordini del giorno delle cose molto importanti. Prima fra tutte quella di, ovviamente in deroga la normativa vigente, di far sì che ci si faccia parte attiva qui a Roma per chiedere al Governo nazionale che si giunga celermente, perché ogni giorno che passa sono miliardi che vanno via dalla città e miliardi e milioni o anche poche migliaia di euro, che comunque per le famiglie sono tanti, di disporre la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di locazione di tutti i locali commerciali e siti sul territorio di Roma Capitale, siano essi pubblici o privati. Perché dico questo? Vero che è una richiesta molto ambiziosa, però chiediamo che queste morosità non siano addebitate e computate nelle morosità colpevoli e quindi non siano computate nei famosi tre mesi dopo i quali il proprietario può sfrattare il conduttore. Ma ovviamente capiamo anche il conduttore e quindi chiediamo sempre al Governo che si possa, in deroga la normativa vigente, spalmare per tutta la durata di questa emergenza tutti i canoni che ovviamente verranno eventualmente sospesi nel corso ovviamente del rapporto contrattuale. Questo è soltanto un piccolo punto. Un altro ordine del giorno parla sempre ovviamente delle piccole imprese e chiede per l'annualità 2020 che il cuneo contributivo a carico dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps venga ridotto in misura pari almeno al 50% della liquida previdenziale e stessa cosa lo chiediamo per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell'Inps e venga ridotto in misura del 50% del reddito minimale e delle aliquide previdenziali sul reddito eccedente il minimale. Ultimo ordine del giorno, mia prima firma ma che hanno sottoscritto anche i miei colleghi è che venga disposta la sospensione dei termini di pagamento degli atti e provvedimenti emessi dagli agenti della riscossione e tutte le procedure esecutive relative. Questo è soltanto una piccola parte dell'aiuto che si può dare ai piccoli commercianti ai grandi commercianti, ai medi commercianti, ai imprese e a tutti coloro che comunque vivono di commercio e di questo settore. Io sarò ridondante però ci tengo innanzitutto, non so se i miei colleghi faranno altri interventi sugli ordini del giorno ma lo faccio io, poi magari se verrà ripetuto insomma sarà un in più. Ringrazio anche gli altri colleghi e soprattutto il nostro disability manager e il dottor Andrea Venuto per degli ODG in particolare, degli ordini del giorno che chiederanno di potenziare i servizi alla persona andando incontro ad alcune esigenze dei soggetti più fragili in città tra cui quelli che furiscono dell'assistenza domiciliare, persone con disabilità, anziani e donne vittime di violenza. E poi ringrazio, ripeto sarò ridondante, veramente tutti i dipendenti di Roma Capitale, tutti, di tutte le strutture quindi non me ne vogliate se dimentico qualcuno, la polizia locale, la protezione civile e i volontari ATAC Roma TPL, tassisti che comunque lavorano in una condizione delicata ma continuano a farlo commercianti tutti, albergatori tutti e tutti coloro che per lavoro o per semplice senso di civiltà e responsabilità si stanno attenendo letteralmente alle regole che ci danno tutela e cautela. Grazie ovviamente ai medici, agli infermieri e anche ai medici in pensione che sono tornati in corsia in questo momento e ovviamente io vorrei lasciare una nota positiva in tutta questa negatività che gli italiani comunque ce la possono fare, ce la faranno perché sono un popolo che ha tanti vizi ma anche tantissime virtù. Grazie Presidente. Grazie a tutti.